Ha già detto tutto, ma c'è falta anche su MPS, il suo collega Borghi dice che è nel contratto sostenere le banche. Sostenere i risparmiatori, l'obiettivo è tutelare i risparmiatori, cosa che non hanno fatto i governi passati. In questo passo però io arrivo a casa fra un'ora e tre quarti. Ah, andiamo, l'accompagniamo tutti a casa. Ah che carine, venite anche a mangiare qualcosa volentieri. L'obiettivo è tutelare i risparmiatori, con la certezza che l'istituzione europea, in questo caso la BCE, ci permetta di farlo senza dettar legge in casa nostra. Ci sarà una nuova iniezione di denaro dentro MPS? No, non fatemi parlare di altro perché oggi... La BCE ha chiesto appunto di rivedere i crediti dati ad onorato. S'attacca, come si dice a Oxford. Sembra però che il Movimento 5 Stelle sia contrario a mettere un qualsiasi fondo pubblico per la salvaguardia degli MPS. Sono sicuro che tutti sono a favore di tutelare i risparmiatori, non i banchieri ma i risparmiatori.